Gravissimo lutto nel mondo del cinema, è morto infatti il famoso attore americano Joe Turkel, interprete straordinario del barista Lloyd D. Shining, di grande Stanley Kubrick, creatore di replicanti Theore di Bray Arnold, di Richard Scott, si è studento a Providence, Sons Jones Art Center, in Santa Monica, a 94 anni di età, era molto anziano in California. Come il discorso si è spento, come fatto sapere da parte della sua famiglia, apparì anche in due film di Kubrick come Pistolero, di Rapina a mano armata, come Soldato mandato al Protone in Orizzonti di Gloria del 57. Recitò i ruoli di Abulgeni, un gangster nel film del 60, ragazzi pirati, detto al faro. Interpretò anche un prigione di guerra in quelli della Santo Padre, e fu dispensato di tangenti in Gris Me Thumb, in Massaglio di San Valentino. Un uomo conosciuto soprattutto in Shining, era infatti il sagazio perista che aveva quel sorriso bislacco, tra virgolette, che si parisò al grande attore americano Joe Turkel, il protagonista. Dottorcio, grazie a tutti, Joe, che tu possa riposare in pace. Amen.